La signora Rosanna Fassino è la presidente della Proloco di Pianezza, impegnatissima nella consegna delle luminarie, degli alberi di Natale, un Natale di solidarietà che va a vantaggio dell'ambiente, del commercio di Pianezza, dei neonati. È soddisfatta di questa iniziativa? Molto soddisfatta. Mi spiace avervi ricevuto così che non è ancora tutto perfezionato, perché questa mostra di Presepi è un po' il mio fiorello chiello, una cosa che ho insistito tanto e che l'ho voluta proprio a tutti i costi. Devo dire che sono molto soddisfatta dalla risposta che abbiamo avuto dai commercianti stessi, quindi cerchiamo di lavorare il più possibile sul territorio, perché è così che deve essere. La Proloco deve essere a disposizione del territorio e quindi è un periodo molto intenso, perché solidarietà in tutti i sensi. Ogni anno ospitiamo una fondazione, un'associazione, una ONLUS che abbia delle credenziali veramente di valore. Quest'anno abbiamo la fondazione fibrosicistica, un anno abbiamo Teleton, tutti gli anni cambiamo associazione e conoscendo direttamente le persone sappiamo che va a finire per la giusta causa. Un gesto concreto di solidarietà da parte del Comune di Pianezza nei confronti del territorio della Valle di Susa danneggiato dai recenti gravissimi incendi boschivi. Lo ha deciso il Sindaco Antonio Castello, consigliere della città metropolitana di Torino, che ha distribuito in questi giorni oltre 150 abeti rossi ai commercianti di Pianezza per abbellire l'esterno dei punti vendita durante le festività natalizie. Dopo l'epifania, ognuno degli abeti rossi che l'amministrazione comunale ha donato ai commercianti di Pianezza insieme a quelli che i privati cittadini e le scuole stanno allestendo spontaneamente saranno tutti ritirati dal Comune che provvederà a donarli ai territori interessati dai recenti incendi in Valle di Susa. Avevamo visto l'impatto che ha avuto questo incendio sul nostro territorio e in un momento ci eravamo incontrati sia la Proloco sia l'Unione dei Commercianti e avevamo pensato che era giusto come comunità poter fare anche qualcosa anche se non siamo stati toccati dall'incendio. E quindi purtroppo ogni anno vengono utilizzati degli alberi che poi sono abbattuti e tutto quanto. Quest'anno abbiamo pensato, bene, utilizziamo degli alberi, li compriamo con le radici, insieme tutti i commercianti imprenderanno tutti lo stesso albero ma non solo i commercianti ma anche l'invito è stato rivolto a tutti i nostri concittadini e anche alle scuole. Quindi questi alberi alla fine del periodo verranno poi consegnati in accordo con una destinazione che magari ci dirà anche la città metropolitana di andarle a inserire, impiantarli in una zona che purtroppo ha avuto un danno. Quest'anno l'amministrazione comunale di Pianezza ha anche donato le luminarie, tutte uguali, a tutti i commercianti della città. Per un ricco programma di feste natalizie che prenderà concretamente l'avvio il prossimo 8 dicembre. Tante le iniziative si comincerà con quelle di prevenzione sanitaria. Il dottor Guido Argano è il titolare della farmacia centrale di Pianezza. Quest'anno il Comune ha fatto un'iniziativa di solidarietà a tutto campo. So che la farmacia ha dato una mano particolare, solidarietà natale per l'ambiente con il rimboschimento delle zone incendiate ma anche per le categorie deboli. Sì certo, diciamo che questa iniziativa che ho voluto adottare era anche per implementare un pochettino il senso di associativismo che oggi giorno non è proprio ai massimi livelli. Quindi la mia volontà è proprio quella di cercare di aiutare il commercio di Pianezza con una devoluzione del tutto benefica per quanto mi riguarda e cercando appunto di implementare quello che è il senso di associativismo che lo ritengo una cosa estremamente necessaria. Il vostro impegno come farmacia si traduce, se ho capito bene, in un kit poi per i neonati della città? Sì, noi diamo anche un kit, praticamente è uno sconto che noi poi devolviamo alle mamme di questi piccoli neonati che corrisponde a 5 euro per tutto ciò che loro hanno bisogno per la cura dei neonati. Ma soprattutto l'appuntamento più atteso a Pianezza per questo Natale sarà l'accensione nel giardino della Villa Leumann del presepe mobile della famiglia Quatto, allestito con tanto impegno fin dal novembre dalla sezione locale degli Alpini. Vera Audania è la presidente dell'Unione Commercianti e Artigiani di Pianezza. Signora Vera, il Comune ha fatto un'iniziativa davvero particolare quest'anno di solidarietà. C'è stata una risposta positiva, mi pare, di capire da parte dei commercianti della città? Sì, molto felice di questa cosa e sì, c'è stato veramente un buon ritorno da parte di tutti i commercianti di Pianezza. Quindi stiamo assistendo alla consegna delle luminari, il Comune consegnerà delle luminari uguali per tutti i commercianti, ma soprattutto alla consegna di questi alberi che verranno poi restituiti alla comunità impiantati nelle zone dove ci sono stati gli incendi boschivi. La solidarietà, accanto alle iniziative di Natale, mobiliteranno di più il commercio a Pianezza. E questo speriamo di sì, assolutamente, sì. L'abbinamento dell'attività delle scuole, il coinvolgimento dei ragazzi, dei bambini, per voi è importante? Direi di sì, è la base, è la base. Sì, vogliamo fare un augurio di buon Natale allora a tutti i commercianti e a tutti gli abitanti di Pianezza con la solidarietà? Auguriamo a tutti, dai, tanti auguri di buone feste e buon Natale.